ultimo giorno della settimana oggi venerdì 11 gennaio 2019 bentornati su ciper tv oggi open test day quindi avremo 21 15 9 calories low e 21 15 9 and squat clean seguiti poi da 21 15 9 calories low e 21 15 9 thrusters noi ci rivediamo lunedì e non mi resta naturalmente che augurarvi un buon weekend